Visita istituzionale della Commissione regionale antimafia presso la sede della Prefettura di Enna. Ascoltiamo le parole del Presidente Claudio Fava. Questa visita conferma che Enna fa parte di una geografia siciliana in cui la mafia è una presenza costante e significativa, un'interferenza pesante nei processi amministrativi e economici, anche politici. La presenza di Raffaele Bevilacqua, il suo ritorno a parziale libertà, arresti domiciliari per due anni, ha determinato sommoviamenti significativi. L'indagine in corso a Barra Franca e il rischio che ci siano state fortissime interferenze che hanno di fatto determinato la non agibilità democratica del Comune, è un altro dei suoi punti su cui si sta lavorando, c'è una commissione d'accesso che la Prefettura ha mandato il 12 agosto e concluderà il suo lavoro tra qualche giorno. L'altro punto significativo è che questa resta una terra di saccheggio dei fondi comunitari, di risorse sottratte all'economia legale, sottratte alla possibilità di essere un sostegno ad investimenti, a un recupero di forza dell'economia agricola e invece diventa l'oggetto, il bottino di guerra di alcune famiglie che utilizzando complicità professionali, che vanno da false certificazioni, a roggi tifasulli, a finta intestazione di terreno, ha drenato nel corso degli anni decine e decine di milioni di euro. Sul rapporto dell'ispettore in merito ai concorsi del Comune di Enna e sulla vicenda ASP. Il rapporto in questo momento è segretato, sarà disponibile tra qualche giorno e verrà anche acquisito dalla commissione antimafia, si aspetta di contestarlo e quindi raccogliere le controdeduzioni. L'unico elemento certo è che questo rapporto, oltre che sia stato dato all'assessorato competente, è stato anche trasmesso alla Procura della Corte dei Conti. La sua vicenda dell'ASP è che c'è la delega della Procura della Repubblica alla squadra mobile, mentre qua stiamo parlando di un'inchiesta amministrativa dell'assessorato, lì parliamo di un'indagine aperta dalla Procura e la squadra mobile sta agendo nei filoni che vi dicevo, sta acquisendo tutti gli elementi per capire, mettendo insieme 364 giorni di ferie non godute, un concorso che viene fatto soltanto adesso, le esternalizzazioni di queste consulenti, eccetera eccetera, se tutto questo possa rientrare in una fisiologia o se c'è qualche elemento patologico dal punto di vista del Codice Penale. Il Sino Ien è informato poco e male, la commissione antimafia non ascolta mai i sindaci, nei nostri incontri in Prefettura il parterre è sempre lo stesso, è un parterre istituzionale che prevede il Prefetto, i Comandanti delle Forze dell'Ordine e il Procuratore della Repubblica. Punto 1. Punto 2. La visita alla Prefettura di En non è una visita che abbiamo deciso di fare per rendere omaggio all'ASP locale, ma perché era prevista da tempo e come sappiamo qui c'è stato un vuoto di gestione, purtroppo per ragione l'ha determinato, la Prefettura è stata, poi c'è stata la visita del Codice, quindi è stata collocata in quest'autunno. E' stato scrupolo e attenzione di questa commissione, decide di fare questa visita dopo l'elezione e non prima.